Dagli anni 30 agli anni 50 lavorò inoltre una cinquantina di film in cui interpretava, per lo più come caratterista, ruoli di anziani brontoloni e collerici, aiutato dalla sue caratteristiche fisiche e dall'inconfondibile accento catanese. Tra i film da lui interpretati sono da citare, 1860, 1934, Roma città aperta, 1945, Anni facili, 1953, Un giorno in pretura, 1954, Accadde al penitenziario, 1954, L'episodio la giara in questa è la vita, 1954. Racconti romani, 1955, Mi permette, Babbo, 1956, Arrivano i dollari, 1956.